Mi chiamo Craig Peretz, vengo da New York, sto qua in Italia da tanti anni, lavoro nel campo teatrale da ormai 25 anni. Praticamente ho cominciato a lavorare a livello professionale nel campo dello spettacolo con Robert Halmy Incorporated, ma come un assistente alla produzione. Allora ho questo percorso che ho fatto nella vita anche dall'altro lato, non solo a livello artistico, ma anche a livello produttivo. Sono sempre più produzioni dall'estero che vengono in Italia e girano dei film, programmi televisivi, spot pubblicitari in lingua inglese. Allora l'attore di oggi che riesce a recitare in inglese ha una possibilità non maggiore, ma nettamente maggiore, di un altro attore che non riesce a farlo. E qua siamo qua per offrire questi tipi di corsi che preparano i ragazzi, veramente per il mondo lavorativo. Nell'insegnare recitazione in lingua inglese, acting in English, cerco di avere un approccio su vari livelli, un approccio per l'attore per confrontarsi nel recitare e avere la trasmissione anche delle emozioni attraverso un canale linguistico completamente diverso, è una bella sfida. L'altro livello sarà quello proprio culturale e cercare di capire anche per i ragazzi che vogliono andare addirittura non solo a lavorare in Italia ma anche all'estero, di avere una comprensione proprio della cultura anglosassone, la differenza tra un inglese e gli Stati Uniti, però proprio questo arricchire a livello culturale i nostri allievi e prepararli per il mondo dello spettacolo in lingua inglese.